Ehi, gli ospiti arriveranno tra cinque minuti. Vieni subito a casa invece di giocare a Dead Island. E premi il pulsante salva, ragazzo. Aspetta! Sammy, sei stato tu? È stato l'omino del sonno che l'ha fatto prima che entrasse dentro la mia camera. Non ci sono segni di scasso. È sicuro che porte e finestre fossero chiuse a chiave? Sicurissimo, le controlliamo sempre. Tre sturmi di uccelli migratori si sono abbattuti su casa vostra. È come se fossero stati attirati qui. Sta succedendo qualcosa. Ho trovato un tizio che dice di essere un esperto. Avete notato strani disturbi o inspiegabili blackout? Daniel. Momenti in cui vi sembra che il vostro corpo sia fuori controllo. Quando arriveranno, renderanno la vostra famiglia. Non aprite questa porta per nessun motivo! Lasciateci parte!